benvenuti cari followers in questo nuovo video in cui vi informeremo sulle zone colpite da forti piogge e forti temporali domani venerdì primo dicembre 2023 ma prima di entrare nei dettagli non dimenticate di supportarci mettendo mi piace a questo video iscrivendovi al canale e attivando la campanella su tutte le notifiche quindi per domani venerdì tempo molto maltempo al nord con forti piogge e forti venti accompagnati da forte grandine di medie dimensioni con un notevole calo delle temperature per quanto riguarda il centro e il sud il tempo si manterrà stabile domani venerdì quindi pioveranno molto forti su liguria piemonte valle d'aosta lombardia trento alto adige friuli venezia giulia veneto emilia romagna nord qualsiasi altra notizia importante proveremo ad aggiornarvi più tardi